Tante le tematiche affrontate nella Due Giorni Romana, presente come massimo rappresentante del territorio cilentano in Parlamento per i pentastellati, il senatore Franco Castiello. E' andata bene, il cilento era molto presente, sono partiti dal cilento Vallo di Diano, la Piana del Sele, tre pullman sabato, un altro pullman è partito domenica, eravamo parecchi del cilento. Una bellissima manifestazione, c'erano chiaramente tutti i leader nazionali del movimento e ieri c'è stato anche l'incontro con il presidente del Consiglio Conte. Ha avuto modo di parlare ad esempio con Di Maio, con altri leader? Di Maio e Conte no, li abbiamo visti dal palco però non siamo riusciti a incontrarli anche perché c'è stato questo problema con la Lega per cui loro hanno fatto un consiglio dei ministri sabato mattina, domenica non arrivavano neanche alla festa. Perché dovevano chiudere questa situazione del governo. Tutti gli altri li abbiamo incontrati, anzi quest'anno hanno modificato la festa, l'hanno fatta diversa. Prima c'erano gli stand dei comuni, delle regioni, c'erano gli stand dei parlamentari europei, dei parlamentari sia senatori che deputati. Quest'anno li hanno tolti, gli hanno messo una maglietta, sono il tuo rappresentante, tu ci potevi parlare. Abbiamo incontrato parecchie persone con le quali solitamente collaboriamo come gruppi e attività locali, tra cui per esempio il senatore Cioffi che è un sottosegretario. Tra i temi maggiormente trattati nel corso di questa convention? Allora ci sono state diverse agorà sulle varie situazioni che si sviluppano perché lì praticamente succede questo, cioè le esperienze a livello comunale, a livello regionale, a livello nazionale vengono discusse insieme agli altri. Stiamo facendo questo e si apre un dibattito. Quello che è stato bello diciamo è che il movimento sta crescendo, c'è molta più maturità, c'è una forte opposizione molto più mediatica che nella realtà, perché i sondaggi ci dicono che il governo è forte e il movimento cresce. Ora stiamo organizzando le europee, siamo concentrati molto su questo discorso delle europee, dove probabilmente lanceremo, dal detto di maio, nei prossimi mesi, delle alleanze internazionali per formare un nuovo gruppo europeo.